La Biciclofficina è uno spazio popolare dove vengono riassembrate le vigilette abbandonate cedute da cittadini del quartiere e vengono poi restituite alle persone che le vogliono usare senza uno scopo di buco Il progetto è nato ossestato da noi tre che siamo i fondatori La Biciclofficina è una cosa che già esiste però è una realtà nuova La nostra sarebbe la quinta o la sesta addirittura in questo posto che noi siamo al villaggio dell'Olimpico Flaminio e la seconda più in costruzione Le premesse sono incoraggianti perché c'è una bella energia che ci spinge, che ci fa collaborare e portare avanti questa cosa Sicuramente vorremmo arrivare a raggiungere degli obiettivi che ci stanno a cuore La Ciclofficina è ben avviata, ben organizzata e poi tutto quello che la nostra fantasia sarà in grado di sviluppare Grazie